Ciao, siamo al Parco Lura di Saronno e io sono Cesare, sono Presidente dell'Associazione Culturale e Musicale Sound e People, organizziamo questi eventi musicali al Parco dell'Ura fino a, ora vedremo quanto tempo ci daranno per recuperare le settimane che abbiamo perso sotto l'acqua, ma credo fino a fine settembre ci siamo e niente, lo aspettiamo, venite giù, c'è un servizio cucina con costine, salemelle, patatine eccetera eccetera e cerchiamo di dare a Saronno qualcosa di diverso. Sì, questa sera, giovedì, abbiamo una band di cover di Davide Vandesfros, una band di Como e Menagramma, bravi ragazzi, sono in 6 o 7, con fiati, trombe eccetera eccetera. domani sera c'è un'altra band di Saronno, gli Yellow Frogs, che hanno già suonato qua e niente, di solito portano l'acqua, vediamo stasera se si portano al sole. Ciao a tutti, durante la settimana, oltre agli eventi di Davide fine settimana, è possibile venire verso il Parco Lura per bere una birra, mangiare qualcosa, oppure divertirsi nel parco facendo attività o altre cose. sono in programma, se il tempo migliorerà, delle iniziative per tutti, per i giovani, non meno giovani, anziani, insomma qualcosa per divertirsi tutti insieme. La fluenza del pubblico durante questi giorni è stata, diciamo, relegata più che altro al discorso del tempo, quindi nelle giornate di pioggia c'è stata meno gente e nelle giornate di sole invece la gente affluisce e comunque più volentieri. Speriamo che il tempo migliori, in modo che molta gente possa venire ad apprezzare queste nuove iniziative che valorizzano il parco e una parte importante di Saronno. Sì, qua al Parco Lura ci siamo organizzate con strutture al coperto, grandi, ampie, dove ci sono tavoli sotto o all'aperto, dipende dal tempo. Comunque possiamo garantire la copertura nel caso di pioggia, eccetera, eccetera. Abbiamo un piccolo palco dove facciamo gli eventi piccoli o cabaret e un altro palco, nell'allestimento la prossima settimana più grande, dove faremo concerti un po' più a livello. La prossima settimana, 5, 6, 7 settembre, abbiamo organizzato una serie di concerti, saranno più vicini all'evento che al concerto, ben organizzati e prevediamo una buona affluenza di persone. Quindi vi aspettiamo numerosi qui al parco, visto che la musica c'è, da mangiare c'è, da bere pure e magari, che ne so, faremo una danza del sole insieme.